Ivana Di Mino oggi la Saving Humans ha dato un riconoscimento all'equipaggio del Gerratano che si è distinto per quella che può sembrare un gesto quasi scontato, banale, che in realtà non è così anche perché leggendo insomma le cronache e le notizie di questi giorni è un segnale da parte vostra verso quel senso di umanità che portate avanti? Assolutamente sì, Mediterranea Saving Humans ormai da tanto tempo promuove intanto i diritti umani, la tutela dei diritti umani e soprattutto l'importanza della vita umana ad ogni costo. Ricordare oggi che è il 3 ottobre che è l'anniversario, il settimo anniversario della strage di Lampedusa del gravissimo naufragio di Lampedusa in cui morirono circa 360 anche di più migranti ricordare oggi questa importanza alla vita umana è fondamentale proprio perché assistiamo di fatto a un silenzio dei governi non soltanto italiano ma anche europeo a livello proprio istituzionale di fatto la nostra imbarcazione, la Mare Ionio, è sottoposta oggi a un fermo amministrativo e così come noi tutte le flotte civili, la Sea Watch piuttosto che l'imbarcazione di Medici Senza Frontiere è proprio di ieri un comunicato congiunto da parte di tutte le organizzazioni della società civile che promuovono il soccorso civile che di fatto oggi purtroppo è impedito. Lei che ha esperienza in tal senso, che significa andare e trovarsi per mare e trovare le persone che in qualche maniera affrontano un viaggio che sappiamo essere anche di disperazione e poi invece leggere i commenti che ci sono sui social da chi sta a casa sereno e magari ad esempio in questo contesto di emergenza sanitaria noi riportiamo, faccio anche ammenda da parte dei cronisti, riportiamo i dati dei contagiati separati i dati di chi è immigrato, che cosa ne pensi? Allora sicuramente il momento storico sanitario che stiamo vivendo non è un momento semplice che posso comprendere e alteri un po' anche la percezione delle cose e quindi se mettiamo questo unito al fatto che sicuramente c'è un grande dibattito anche sociale oltre che culturale rispetto all'accoglienza o meno di persone che vengono da altri posti di persone che vengono da altri paesi, tutto chiaramente si può amplificare quello che io penso è che ovviamente come dicevo poco fa la vita umana conta più di ogni altra cosa è chiaro che sicuramente occorrono meccanismi di mediazione cioè occorre che i governi prendano atto del fatto che la migrazione non può essere fermata perché da che mondo in mondo l'uomo tende a migrare, l'uomo tende a spostarsi e non è una colpa voler cercare un futuro migliore è chiaro che i governi, le istituzioni italiane, europee, internazionali in generale dovrebbero anche un po' ripensare il modo con cui questa migrazione può essere agevolata Spesso nei commenti, specie sui social purtroppo c'è chi dice guardate come arrivano, vi sembrano queste persone disperate nel senso che fisicamente magari sono anche fisicamente messi meglio rispetto a noi e molti accusano proprio questo fatto come lei conosce invece le storie umane che ci sono dietro quei volti e cosa può raccontare? Beh, appigliarsi alla fisicità di un ragazzo straniero che dove sia piuttosto riduttivo la fisicità è qualcosa che in qualche modo volentonemente ci portiamo geneticamente ed è risaputo che un certo tipo di etnia ha una fisicità evidentemente importante ma l'avere una fisicità importante non è che esime dall'avere delle storie molto difficili la mia esperienza, così come quella di Mediterranea che di fatto ha salvato centinaia di migranti attraverso le proprie missioni, è quella di persone disperate persone che non soltanto in maniera disperata vanno via dal proprio paese ma che subiscono nel corso dei loro viaggi che sono molto lunghi e che durano anni e questa poi è la percezione che la gente fondamentalmente non ha o che chiaramente non conoscendo non può in qualche modo comprendere sono viaggi lunghi, disperati e sono soprattutto viaggi di gravi maltrattamenti di gravi abusi da ogni punto di vista quindi credo che anche su questo, probabilmente conoscere meglio quello che accade è la fenomenologia dei viaggi e le storie che poi fondamentalmente i migranti le persone migranti ci portano, credo che possa in qualche modo cambiare il corso delle cose ma mi rendo conto che non è così semplice Da rappresentante di Mediterranea quanto orgoglio oggi da Saccenze premiare i nostri pescatori? Tantissimo, io diciamo che ho questo onore di rappresentare tutti gli equipaggi di terra e di mare di Mediterranea Saving Humans che attiva in tutta Italia e che ha collegamenti con tutte le altre organizzazioni della società civile che si occupano di migrazione e quindi per me è veramente un grande orgoglio poter premiare poter dare questo riconoscimento a una famiglia, un equipaggio che ha messo anche in qualche modo a repentaglio la propria vita, il proprio lavoro lo ha fatto con coraggio, lo ha fatto con umanità lo ha fatto con l'idea che salvare è sempre meglio di non farlo quindi io da Saccenze sono assolutamente molto contenta e gratificata di poter avere questa possibilità Oggi il riconoscimento all'equipaggio del giarratano tra le altre cose è super premiato veramente per questo gesto di grande umanità compiuto che ha portato orgoglio soprattutto nei Saccenzi e nei pescatori di Sciatto Sì è vero, sono stati super premiati ma secondo me per il gesto che hanno fatto è così grande, è così nobile poco fa l'ho definito così eterno che vale la pena tornare a premiarli ancora una volta e di questa cosa ne siamo orgogliosi, tutta la città ne è orgogliosa intorno all'equipaggio giarratano si è riunita tutta la città Che voglio dire non è semplice a Sciatto Non è semplice però se è già successo una volta, se è verificato una volta magari si verificherà in altre occasioni Continuano ad essere per ciascuno di noi un esempio da seguire è un modo, dicevo poco fa anche, attraverso cui la fratellanza non è solo un proclama non si può solo proclamare ma va assolutamente testimoniata e loro lo hanno fatto e a ciascuno di noi oggi sono tornati a chiedere di farlo anche in altre situazioni